Benvenuti, per me è un grande onore inaugurare la mia presidenza all'Istituto Conestabile. Dopo la presidenza, altrettanto prestigiosa, di Gianfranco Martoli, che fa la parola di Gianfranco Rizzo, speraventi che questo istituto lo ha in qualche modo portato avanti in momenti difficili. È un'eredità però che accetto piacevole, ci metterò molto impegno affinché appunto questo istituto continui ad essere un punto di riferimento per la Chiesa Perugina, innanzitutto ma soprattutto per la città di Perugia. È appunto la prima iniziativa che il nuovo Consiglio Direttivo propone, artefice di questo incontro e di questa iniziativa è stata Lucia Amato, nella quale poi molto volentieri però la parola. Io intanto volevo ecco dirvi che l'attività dell'Istituto proseguirà con un nuovo incontro dentro la metà, la seconda metà di novembre, con un ex ambasciatore sempre su questi temi che verrà a parlarci della primavera Abraba, alcune considerazioni, alcune diciamo riflessioni su questo movimento che ha scomposto l'area del Mediterraneo, poi proseguirà probabilmente con un'iniziativa, la presentazione di un carteggio, di un'edizione del Mediterraneo di padre Giampa di Malducci e che faremo probabilmente a San Matteo degli Armeni e poi tutti i soci sono invitati a visitare il nostro sito, il nostro sito per appunto aggiornarsi sull'iniziativa. È anche possibile ad aderire in qualità di soci a questo istituto che ha avuto il solo di essere seguito da soci, di sentirsi comunità attiva all'interno della città. Dicevo per me è un grande odore che stasera viene anche perché c'è la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Bassetti che ringrazio veramente per essere qui presente e al quale chiedo di un saluto a questo pubblico. Grazie. E poi mi chiedo che non potrò restare in particolare il padre Paolo, proprio un impegno familiare al quale non posso, però ringrazio comunque naturalmente il padre Paolo e invito su eccellenza per il saluto e la chiesa. Proprio due parole per dire soltanto questo. Io non so che cosa ci dirà padre Paolo, lo posso anche immaginare, ma sono venuto qui proprio per ascoltarlo con tanta attenzione e partecipazione. So però una cosa molto importante che sempre, ma soprattutto in quest'anno della fegna, la chiesa ha bisogno di testimoni. La chiesa va avanti sui testimoni che sono poi i martiri, che è il significato della parola testimoni, cioè la parola martire è testimoni. La chiesa ha bisogno di esempi luminosi che possono essere propositivi anche per i giovani. Mi fa piacere stasera vedere diversi giovani anche un gruppo dei nostri seminari stessi. E allora ecco, noi letteralmente con tanta gioia siamo qui per ascoltare il carissimo padre Paolo la tua testimonianza. Grazie. Buonasera a tutti, sono Lucia Mandoli. Ringrazio tutti per essere venuti così numerosi, mi fa molto piacere. Voglio ringraziare padre Paolo per aver accettato l'invito, sono veramente felice e direi anche un po' emozionata di essere qui oggi insieme sotto questa volta stellata che in qualche modo ti può ricordare la sua cara e poi è un'amica, no? E' un'amica, no? Era questo dell'altra. Esatto, giustamente approfittiamo per fare tanti auguri e ai miei bari e ai miei amici finiani che sono presenti. Ecco, ho avuto la fortuna di conoscere padre Paolo personalmente in Siria nella primavera del 2010, quando a Reduca lavoravo in Libano e c'era questa leggenda, direi, di questo posto fantastico di Marmosa che veniva portata di bocca in bocca tra i tanti cooperanti, i viaggiatori che si muovevano dalla Siria in Libano, sentivo parlare di questo posto, di questo monastero di Marmosa nel deserto a nord di Damasco come un luogo aperto a tutti, la cosa mi curiosi molto proprio perché questo veniva descritto con passione anche da persone altre, no? E fu così anche che un giorno ho preso il mio zagno da tiro dal sud del Libano, partì alla volta di Marmosa, ecco, dove ho rimasto veramente affascinato in questo posto, non tanto e non solo per la bellezza naturalistica del posto, ma quanto per l'atmosfera che si respirava. Ecco, Marmosa, grazie all'opera di padre Paolo che ha saputo riscoprire le sue radici cristiane che affondano nell'antichità, nel sesto secolo, quando lì all'avessino, Mosè all'avessino si ritirò lì all'evitaggio e di questa identità cristiana non ne ha fatto una luccaforte dentro la quale asserragliarsi, ma ne ha saputo fare una terrazza ospitale sulla quale incontrarsi, dialogare e ricercare insieme delle modalità nuove di raccontarsi con gli altri, con il mondo e con Dio. Ovviamente, dove l'altro, in quei posti, spesso i fratelli israeli musulmani, quindi Marmosa si è proprio da sempre distinto per essere un luogo di viaggio e conoscenza islamo-cristiana. Ecco, la quale ha scoppiato la rivoluzione siriana nel marzo del 2011, che purtroppo drammaticamente continua ancora oggi e ha già causato più di 33.000 morti, se non sbaglio, padre Paolo si è impegnato in prima persona con tutte le sue forze per ricamare tutti i siriani al dialogo della riconciliazione e più volte nei suoi discorsi, nei suoi articoli ha auspicato una transizione della Siria verso una nuova era di democrazia, di democrazia realmente partecipativa in cui tutte le componenti culturali e religiose siriane possano trovare il loro spazio e partecipare a una nuova fase del Paese. Evidentemente, questi suoi discorsi non sono piaciuti a tutti, in particolare non sono piaciuti al governo di Assal e così da giugno, 16 giugno, il 2012, padre Paolo ha dovuto allontanarsi dal Paese, ma non per questo ha lasciato la sua battaglia non violenta, che continua a portare avanti con impegno e dedizione un lungo tour di conferenze per portare la sua testimonianza sul dramma e le speranze del popolo siriano in tante città italiane. Quindi ecco, oggi siamo veramente felici di averlo con noi via Perugia, è un tempo prezioso che abbiamo per ascoltare dalla sua voce, dalla sua esperienza, dalla sua profonda conoscenza e passione per il contesto siriano, chiediamo di aiutarci a capire che cosa sta succedendo, che cosa è rimasta di quella rivoluzione pacifica, di dire da altri giovani scendere in piazza nel marzo del 2011 e anche che speriamo ci possa dare un orizzonte di speranza verso quali prospettive di bene che possa evolvere la situazione siraria, quali prospettive di riconciliazione e di pace in un nuovo futuro per la Siria. Quindi mi fermo qua, guardando anche troppo, basta una parola a tutti. Grazie.